In questo video ci occuperemo della grammatica, in particolare delle reggenze del verbo. Il verbo e quindi i suoi complementi. Questo modello di descrizione alla frase introdotto da Francesco Sabattini si chiama appunto in Italia grammatica valenziale. Die valenz gibt an wie viele leerstellen beim jeweiligen verb eröffnet und wie sie besetzt werden. Quindi ci si interroga fondamentalmente su quelli che sono gli elementi, in italiano si chiamano argomenti, gli argomenti che possono essere, diciamo, che sono richiesti dal verbo. E quindi si contano questi elementi, no? Ci sono dei verbi che non hanno nessun elemento, ci sono i verbi che ne avranno uno, i verbi che ne avranno due, i verbi che ne avranno tre. Il tedesco usa il termine Ergensungen, che in realtà noi adesso chiameremo anche argomento in italiano, ma che poi in realtà potrebbe creare un po' di confusione. In realtà è un modello. Poi io ho cercato di fare adesso dei disegni per spiegare meglio. Schauen wir uns jetzt mal verben die keine Ergensungen haben. Also verben ohne Ergensungen. Ci sono dei verbi che non hanno nessun tipo di argomento. Quindi sono spesso verbi impersonali, verbi senza complementi, diremmo, nella terminologia dell'analisi logica. E sono spesso i verbi impersonali. In italiano si chiamano verbi zerovalenti, quindi verbi senza argomenti. Esempi come es regnet. In tedesco abbiamo però bisogno di es, che comunque fa parte del verbo, perché è un verbo impersonale. In italiano invece si dice piove. Qui abbiamo diversi verbi impersonali. In tedesco abbiamo poi l'ausiliare avere, es hat geregnet, es hat geschneit, es hat gehagelt, eccetera. Trovate le rispettive traduzioni. Ci sono poi dei verbi che richiedono un argomento, in questo caso l'argomento del soggetto, che in tedesco comunque devo esprimere e non posso lasciare sottointeso. Ad esempio, der junge Gehnt, il ragazzo sbadiglia. Il verbo sbadigliare, quindi gehen, richiede automaticamente una nominative Ergensung, una nominative Ergensung, quindi è il soggetto della frase che è obbligatorio. Questi verbi si chiamano verbi monovalenti. In tedesco li possiamo chiamare verbi mit einer Ergensung, in diesem Fall mit einer nominative Ergensung. Chiaramente richiede il nominativo. Dann haben wir verbi mit zwei Ergensungen, quindi verbi che hanno due argomenti. Per esempio, mein Honkel ist ein Apfel. Da haben wir eine nominative Ergensung. Ist, mit accusativ, also ein Apfel. In italiano si chiamano verbi bivalenti, quindi sono verbi che possono avere due argomenti. In questo caso abbiamo il soggetto e il complemento oggetto. Sono verbi transitivi in questo caso. Altri verbi bivalenti transitivi che richiedono accusativo sono brauchen, aver bisogno, fragen, chiedere, haben, avere e bitten, pregare ma anche chiedere. Altri verbi bivalenti come quelli precedenti, ma che in tedesco richiedono una Ergensung al dativo, quindi abbiamo la frase, das Geschenk gefällt meinem Bruder, il regalo piace a mio fratello. Quindi a mio fratello, nella vecchia annaide dei complementi, era il complemento di termine. In tedesco si chiama dativ agenzum. Verbi come gefallen possono essere beginnen, incontrare per caso. Sono tutti verbi che in italiano non hanno il complemento di termine. Per cui li ho scritti. Danken, ringraziare, anche in questo caso in italiano si dice ringraziare qualcuno, invece il tedesco richiede il dativo. Drohen, minacciare. Poi abbiamo folgen, seguire. Ich folge dir, con il dativo. Ich helfe dir, quindi folgen. Seguire, helfen, aiutare. Ich helfe dir, con il dativo. Zuhören, ascoltare con attenzione. Ich höre dir zu. Vertrauen, ich vertraue dir, mi fido di te. Enel, assomigliare. Gefallen, abbiamo visto piacere. Schmecken, è anche piacere, ma di gusto per il cibo. Pommes schmecken mir nicht. Poi abbiamo gehören, appartenere. Diese Bücher gehören mir nicht. Poi abbiamo schaden, farmare, nuoce. Zigaretten schaden, der Gesundheit. Questi sono quindi i verbi che hanno il dativo, che hanno quindi il soggetto e il dativo. Ecco, abbiamo adesso anche verbi che hanno due ergänzungen, che poi sono in questo caso con preposizione. Meine tante wohnt in Zürich. In questo caso abbiamo una nominative ergänzung und eine situative ergänzung. Qui abbiamo un complemento con preposizione. Qui abbiamo in più il luogo della città. Oder meine flasche steht auf dem Tisch. In questo caso abbiamo anche il soggetto, il nominativo, poi il verbo steht, che richiede una preposizione, in questo caso auf, seguita dal dativo. Queste sono le wechselpreposizioni. Tutte queste preposizioni, an, auf, in, zwischen, eccetera, richiedono sempre il dativo perché abbiamo un verbo di stato. Altri verbi come stehen sono liegen, che vuol dire stare sdraiato, hängen, essere appeso, sitzen, essere seduto, e stecken, essere infilato. Questi sono verbi irregolari, quindi lag, hing, saß, steckte invece è irregolare. Altri verbi che hanno due argomenti o due ergänzungen sono verbi come questi. Meine Uma denkt an ihre Kindheit. Mia nonna pensa alla sua infanzia. In questo caso abbiamo un verbo con preposizione. Si chiamano anche preposizional ergänzung. Quindi bisogna studiare a memoria, denken, an, più accusativo, pensare a. Quindi richiederanno un soggetto e la preposizione è ampio accusativo. Poi abbiamo verbi con tre argomenti. Das sind verbi mit drei ergänzungen. In italiano si chiamano anche verbi trivalenti, quindi con tre argomenti, che potrebbero essere frasi come Mein Upper schenkt mir ein spannendes Buch. Quindi abbiamo oltre al soggetto, quindi oltre al nominativo, abbiamo un dativo, che deve stare prima perché è un pronome, e poi è un complemento oggetto, quindi è accusativo against them. Altri verbi come schenken, che richiedono quindi un dativo con la persona e un accusativo con le cose, sono anbieten, offrire, bringen, portare, empfehlen, consigliare, raccomandare, erlauben, permettere, geben, dare, layen, prestare, sagen, dire, schenken, regalare, schicken, inviare, senden, inviare, verbieten, proibire, zeigen, mostrare. Abbiamo poi verbi con tre complementi, che richiedono ad esempio, come in questo caso, un accusativo e una preposizione di, diciamo, wohin an gabe, quindi che richiedono ad esempio zu più lativo. Meine Eltern fahren mich zur Schule. I miei genitori mi portano a scuola, mi portano in auto a scuola. Quindi abbiamo la wohin an gabe, Richtung ergänzung. Altri verbi come fahren sono fliegen, gehen, reisen, kommen, quindi verbi di movimento fondamentalmente. Anche in questo caso abbiamo tre argomenti, sono i verbi come stellen, mein Vater stellt die vase, devo dire dove lo mette, non posso dire stell die vase, fermarmi lì. Mein Vater stellt die vase auf den Tisch, quindi mio padre mette il vaso, lo depone sul tavolo. Abbiamo quindi, oltre al soggetto, il nominativo, l'accusativo e poi eine Richtung ergänzung, quindi abbiamo anche qui la wohin an gabe con auf più accusativo. Altri verbi che richiedono accusativo, verbi di moto, saranno quindi liegen, mettere in posizione orizzontale, hängen, appendere, in questo caso con il movimento, sich setzen, sedersi, o anche sedere, far sedere qualcuno, e stecken, infilare. Verbi mit rei ergänzung, verbi con tre argomenti, sono i verbi con preposizioni, ad esempio come helfen, che appunto oltre al caso dativo anche, o anche un altro caso, non per forza altiva, in questo caso helfen vuole il dativo, una preposizione con un altro caso. Avremo quindi per esempio, meine tante hilft mir bei den Hausaufgaben, mia zia mi aiuta con i compiti, a fare i compiti, in realtà è sostantivato. Abbiamo quindi un soggetto, quindi una nominative against, il verbo, che ci richiede un dativo, quindi una dative against, e poi abbiamo bei den Hausaufgaben, con i compiti, a fare i compiti, in questo caso abbiamo anche un verbo con preposizione. Ne abbiamo anche altre di questi verbi, bisogna quindi conoscere se il verbo richiede l'accusativo o il dativo, quindi se ha un accusative o una dative against, una volta non hanno nessuna against, un altro caso, e poi la preposizione con il suo caso. Per esempio, jemanden bitten um, quindi avremo l'accusativo, poi bitten più um più accusativo, jemandem danken für, avremo il dativo danken, poi für più accusativo, sich interessieren für più accusativo, warten auf, in tedesco si dice aspettare qualcuno, in italiano si dice aspettare qualcuno, in tedesco warten auf più accusativo, si aspetta su, in realtà è qualcuno. jemandem antworten auf più accusativo, ich warte auf deine Antwort, ich warte, ich antworte auf den Brief, però si può anche dire, ich antworte dir, io rispondo a te. Poi abbiamo sprechen mit, sprechen über, che sono anche verbi con preposizione. Quindi non sempre hanno una dative o una accusative agenzione, questi verbi con preposizione.